Musica Weeey! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi ce l'abbiamo fatta la skin del prigioniero è sbloccata con 4 sfide della settimana ragazzi sbloccheremo finalmente la skin segreta che è davvero meravigliosa ragazzi una roba incredibile ma giustamente la domanda che tutti vi fate è una sola Ma Xyuder mi avevi detto porco giuda che la skin aveva degli stili personalizzati perché io non ce li ho? Beh ragazzi ve lo spiego subito ma prima mi raccomando un bel pollicione in su non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto Di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento nessun video nessuna news Questa volta ragazzi Epic Games si è assolutamente superata Non ci saranno delle sfide come siamo abituati a vedere per sopravvivere agli avversari ad esempio o altrimenti per fare determinate kill No ragazzi questa volta hanno inserito un minigame nel game e ragazzi dovremmo trovare 4 chiavi che ci daranno la possibilità di sbloccare tutti gli stili della skin In realtà penso che siano 3 le chiavi perché gli stili sono 3 però non me lo ricordo con precisione In questo video raga vi faccio vedere la prima dove si trova per farlo dobbiamo atterrare in cima alla torre del picco polare Una volta saliti in cima passiamo di qua rompiamo questo pavimento scendiamo qua io l'ho già presa ragazzi Ma voi su questo tavolo troverete la skin troverete la chiave che state cercando e guardate ragazzi che cosa Non vi voglio dire niente la troverete vedrete poi che cosa succede Non ve lo voglio spammare ma il primo stile della skin ragazzi è questo ed è davvero meravigliosa Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo primo video mi raccomando un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto Ciao